Buonasera, buonasera, cominciamo anche per questa sera con la nuova proiezione e voglio ricordare solo due cose, come al solito ricordo di compilare il questionario, è importante, si trova al desk, vi ricordo che compilando il questionario avrete una copia di archeologia viva, una rivista di archeologia edita dalla Giunti e infine per chi volesse può prendere anche il libretto della rassegna di Rovereto, la rassegna si è conclusa i primi di ottobre, ma in questo modo potete rendervi conto anche di che cos'è la manifestazione di Rovereto. Detto questo passiamo alla proiezione di un film di breve durata, dura 14 minuti, dopo di che avremo la conversazione con la dottoressa Bonacini. Il film è Deep Time a Talisban, è un film americano del 2010, il regista è Paul Raid. Talisban è un sito archeologico tra Madaba e Amman in Giordania. Il film presenta due storie intrecciate tra loro, quella degli imperi giordani degli scorsi tre millenni e quella della popolazione locale che sopravvisse a questa sequenza di regni. Il narratore principale è il professore Oysten Labianca, direttore del progetto archeologico di Talisban. Il film è stato girato da una sola persona sul luogo in Giordania durante uno scavo di tre settimane nel maggio 2010. Buona visione. giornalistica, direttore del progetto di Talisban. Il rapporto di Talisban è stato girato da circa 40 anni di collaborazione. Abbiamo portato studenti qui nel settemane dopo settemane, e hanno aprenduto da l'hospitalità dei locali i Jordaniani e dell'Arabia. E come risultato, questo sito ha diventato un monumento a un'obiettivo per il bambino tra l'estero e l'estero. Archeologia, per me, è più che solo studiare il pasto. È davvero un'avventura di incontrazione. Non vi vengono in una bubola quando facciamo archeologia. Passiamo a uscire e viviamo e rendo esamenili con le persone che vengono a知ci跟 loro. Lse vengono a知ci e noi conosci e questo è il utile alunico di archeologia. Trajano le persone insieme, da diverse culture. Ellos devono uscire come funziona, come funziona queste diverse culture. E questi sonoimeri. ma abbiamo, in fine, l'opportunità di costruire strade per l'archeologia che sono probabilmente non precedenti in qualsiasi forma di educazione che abbiamo cercato di fare in nostri classi. Per i nostri incontri di archeologia oggi abbiamo un ospite che sicuramente non è nuova al Lico di Oubea. Sicuramente sono una nota un po' differente in questa rassegna. Ma a noi piacciono il nostro rassegno. Sì, sì, assolutamente, anche perché è un modo per istigare a comportarci un po' diversamente. Intanto, appunto, passerei alla prima slide. Io invece ti lascio campo libero, anche perché Elisa si avverrà anche di un PowerPoint che serve anche a... Non so se leggete, spero di sì, con la luce. Si vede bene? Perfetto. Allora, questo, forse si vede peggio la scritta in rosso, caso me ve lo dico io. Questa è una frase tratta da una monografia che si intitola Galassia Internet che Manuel Castles, che è un esperto di social media, anzi di sociologia dei media, scrisse nel 2001. Internet è la leva per la transizione a una nuova forma di società e con essa una nuova economia. È una frase sicuramente impegnativa per il 2001. E forse soltanto adesso ci rendiamo conto di che cosa significhi Internet. Però per renderci conto di che cosa significhi Internet oggi, anche nella comunicazione culturale, vi voglio fare vedere una serie di slide e commentarle appunto con voi. Allora, questa è la penetrazione di Internet nel mondo, così come è, diciamo, certificata per il 2013 con i dati del 2012. Noi abbiamo una popolazione globale di 7 miliardi di persone e 2 miliardi e mezzo di questi sono connessi. Quindi abbiamo un 34,4% della popolazione del mondo che è su Internet e si muove su Internet. Vedete in realtà appunto anche i numeri, forse li vedete un po' male. Se passiamo alla slide successiva, passa oltre... No, forse... torna indietro Mauro, scusa, ho sbagliato io. Ancora, ancora. Vi faccio vedere semplicemente le percentuali di penetrazione e di crescita che hanno avuto alcune... Internet ha avuto in alcune aree del mondo. Soprattutto le zone dell'America Latina, dove c'è una penetrazione, per esempio, del 42,9%, che è una penetrazione particolarmente alta. Ovviamente non sto a dirvi nemmeno quanto sia alta la penetrazione che Internet sta avendo nei paesi del Medio Oriente e dell'Est del mondo, Cina, Giappone. Andiamo... vai oltre Mauro. Questa è una previsione di crescita che tra il 2013 e il 2018 ha Internet ed è una crescita sempre più esponenziale. Mentre questo è un dato che certificherebbe il peso economico di Internet se Internet fosse un settore economico quantificabile. Vedendo il grafico, in realtà Internet con un peso di tre punti e quattro si piazza sotto i trasporti, mentre è superiore all'educazione, al settore della comunicazione, all'agricoltura, alle utilities, cioè gas, elettricità, eccetera, e mining, che sono le estrazioni minerarie. Cioè, in realtà, dal punto di vista economico, Internet è già un settore pesantissimo, sul PIL del mondo intero. Andiamo oltre. Questo invece è un prospetto che vedete su Facebook. Facebook ha raggiunto nel secondo trimestre del 2013 un miliardo e centocinquantacinque milioni di persone. Considerando che, dalla prima slide, seconda slide che abbiamo visto, gli utenti in Internet nel mondo sono due miliardi e quattro, di questi due miliardi e quattro, già un miliardo e centocinquantacinque mila sono su Internet. Facebook, come vedete, diciamo, si parte dal quarto quadrimestre del 2008 a crescere, ed è una crescita esponenziale. Ok, andiamo oltre. Questo è, appunto, per dirvi molto semplicemente come bastano solo questi piccoli dati per capire quanto è importante essere su Internet. In genere, per strategie di sviluppo locali e globali, perché chiunque di noi ormai si muove su Internet per cercare un hotel, per fare un biglietto aereo, per vedere cosa andare a vedere in una città rispetto a... Magari poi la guida si acquista, ma intanto una prende informazioni su Internet. Internet veicola soldi, sicuramente, veicola informazioni. E questo è, invece, una definizione che viene rilasciata da questa pubblicazione che è stata realizzata dall'Unione Europea che si intitola The New Renaissance, cioè il nuovo rinascimento, del 2011, in cui l'Unione Europea, che in realtà investe in cultura e ha capito che si deve investire in cultura almeno dal 2000, da quella che poi è definita strategia di Lisbona, ha capito che l'unica miniera che c'è in Europa è proprio la cultura, il patrimonio culturale. Non abbiamo estrazioni petrolifere, tranne quel poco che possiamo avere qua, ma sappiamo come lo utilizziamo. si può investire soltanto nel patrimonio culturale. E questa pubblicazione indicava la strada anche per uscire dalla crisi che era già cominciata abbondantemente nel 2008, la pubblicazione del 2011. Ok, andiamo oltre. Questi sono, non so se si vedono bene, i settori di investimento europeo, che in realtà sono i settori in cui l'Europa, con le sue strategie, ha deciso di investire dal 2000 ad oggi. Sono cinque settori, e ve li elenco perché mi piacerebbe che voi vi interrogaste in quale continente l'Italia si è trovata negli ultimi 13 anni. Ricerca e università, inclusione sociale e culturale, sistema informativo, innovazione tecnologica e digitalizzazione del patrimonio culturale. Questi sono i settori in cui l'Europa ha deciso di investire dalla strategia di Lisbona, prima fase, che è del 2000. Ok, andiamo oltre. Vai, questa la devi cliccare di più. Ok, questi sono molto velocemente le caratteristiche per cui un contenuto culturale ha un vantaggio ad essere digitalizzato. è facilmente riproducibile, si diffonde facilmente, sappiamo che ormai internet è virale, è efficiente, la qualità sappiamo che ormai è ottima, ed è facilmente accessibile, democraticamente accessibile. Ed è ciò verso cui mira anche l'Europa, cioè che la cultura, il nostro patrimonio culturale, sia democraticamente accessibile attraverso le piattaforme digitali a tutti. Ok, andiamo oltre. Questi sono i numeri di questo progetto, che non so se conoscete, è uno dei primi, dei più grossi progetti buttati in campo da Google, che oltre ad essere un grande motore di ricerca, è anche impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. Questo progetto si chiama Google Art Project, ed è un grande contenitore di gallerie museali, che è partito il primo febbraio del 2011 con 17 musei. Si vedeva, non so se avete presente, la tecnologia di Street View, quando con Google possiamo vedere, diciamo, le strade, quasi numeri civici, dei negozi o altro. E in Street View si sono realizzate le gallerie di alcuni musei. 17 i primi, tra cui l'unico italiano che partecipò è stata la Galleria degli Uffizi, per cui si riusciva a vedere la Galleria del Vasari in modalità Street View, cioè tu ci entravi dallo schermo del computer, e riuscivi a visualizzare ad altissima risoluzione le opere esposte nella galleria. Ad oggi, quasi, io questi dati li ho presi il 23 di ottobre, i musei da 17 sono diventati 285. Le opere sono passate da 1.061 a 49.000, quindi quasi 50.000 opere digitalizzate. E gli artisti presenti erano 486 due anni e mezzo fa e adesso sono 8.204. Rispetto alla Galleria degli Uffizi sono entrati altri musei italiani che hanno deciso di abbattere i vincoli legati anche al copyright delle immagini, così come, d'altro canto, ha fatto anche la Galleria degli Uffizi sin dall'inizio e hanno deciso di esporre le loro opere perché si rendono conto che piuttosto che guadagnare 10 euro in più su un'immagine per pubblicarla, magari la visibilità della loro galleria ha un riscontro economico differente grazie appunto alla piattaforma di internet. Sono entrati i musei capitolini di Roma, la fondazione dei musei senesi e Palazzo Vecchio a Firenze, il museo di Strada Nuova a Genova, il museo Pol di Pezzoli a Milano, il museo archeologico nazionale di Ferrara, il reggio di Venaria Reale, il museo di Cesano di Milano e il palazzo Grassi a Venezia. E' un modo di comunicare ormai completamente diverso e affidarsi a Google significa anche questo, significa che si ha una visione di ciò che l'essere su internet comporta. Vi dico che gli uffizi hanno un sito ufficiale che si chiama www.polo.museale.fiorentino perché in realtà anche in questo molti dei nostri decisori culturali non erano preparati per fare i dirigenti o diciamo che tendenzialmente non capivano granché di marketing museale. Il marchio uffizi era stato preso da qualcun altro che aveva registrato il marchio per il sito www.uffizi.it che è un sito non istituzionale di bigliettazione e quindi in questa maniera hanno rubato soldi diciamo agli uffizi. Da quando gli uffizi si sono messi su Google Art Project che reindirizzava correttamente al sito istituzionale www.polo.museale.fiorentino si è passati da 3.000 visite al mese che avevano a una media di 500 visite al giorno cioè 15.000 visite ed è ovvio che questo ha avuto un impatto economico anche dal punto di vista proprio della bigliettazione online questo soltanto nei primi otto mesi andiamo oltre questa è un'altra ora per farvi un po' deprimere vi faccio capire un po' come siamo messi dal punto di vista italiano questa scheda vi fa vedere l'Italia rispetto agli altri paesi europei e la sua crescita in internet fino al 2006 e dal 2006 al 2010 la crescita media la vedete sotto quella dell'Unione Europea che è circa il 65% cioè significa che una media del 65% della popolazione europea cede a internet noi abbiamo una crescita che è inferiore alla Spagna alla Polonia alla Croazia a Cipro appena poco superiore al Portogallo eccetera però questo è un dato ancora del 2011 e vi dico che non siamo migliorati andiamo oltre questo è un altro dato del 2011 vi ho messo diciamo in prima linea soltanto appunto gli ultimi paesi in realtà noi abbiamo una penetrazione del 51,7% sempre all'inizio vi avevo fatto vedere quella slide in cui si vedeva che nella Sud America la penetrazione di internet era del 42,9% Sud America stiamo parlando di Brasile l'Argentina Venezuela Cile noi abbiamo appena 9 punti in più rispetto al Sud America e saremmo ufficialmente un paese non del terzo mondo invece siamo terzo mondo e vi dico perché qui in questa no scusa torna indietro Mauro in questa siamo 56esimi nel 2011 ora vi dico che questa stessa classifica noi abbiamo sopra la Polonia sotto il Cile nel giro di poco tempo il Cile ci ha superato era diventato 57esimo ma in realtà rispetto a gli ultimi dati che la Mini Watch Marketing Group ha registrato nel 2013 hanno ristretto il gruppo ai primi 58 paesi ovviamente siamo fuori ok quindi questa è una frase che non troverete più su internet perché è stata bannata di un economista che si chiama Edoardo Fleischer e che se qualcuno si ricorda quali erano queste tre promesse fatte nel 94 imprese inglese e internet sapete di chi stiamo parlando ok andiamo oltre queste si vedono si vedono male comunque sono gli i decreti che hanno causato un ritardo nella digitalizzazione del paese nella distribuzione delle infrastrutture tecnologiche cioè proprio della rete tale per cui il 51% della popolazione italiana accede ad internet cioè significa alla fine uno su due un'impresa su due un alunno su due eccetera tutti questi sono i decreti che sono stati fatti per vincolare piuttosto che per liberalizzare l'accesso ad internet dalla legge Gasparri in poi fino praticamente al piano digitale per l'Italia che nel 2011 si diceva essere stato attuato non era vero dal ministro Paolo Romani che aveva fatto di tutto da ex uomo di Mediaset ovviamente affinché l'Italia non andasse sul web perché sul web ci sarebbe andata come ci va la pubblicità quindi non conveniva l'Italia essere sul web gli ultimi due decreti decreto sviluppo di cui avete sentito parlare che è stato firmato nell'agosto del 2012 l'altro ieri prevedeva l'istituzione stiamo parlando del governo Monti finalmente prevedeva l'istituzione dell'agenzia per l'Italia digitale che l'Europa ci chiede da tantissimo e prevedeva 150 milioni per la diffusione della banda larga ancora una volta col decreto sviluppo bis del dicembre del 2012 misure urgenti per la crescita con le tecnologie per la comunicazione vai Mauro dopo di che il decreto del fare di cui ovviamente avete sentito parlare diciamo che quindi dall'agosto del 2012 ad adesso forse qualcosa si è cercato di fare per colmare questo gap diciamo che si è tentato o si tenta di investire dei soldi finalmente nella distribuzione della banda larga e delle infrastrutture tecnologiche ma in realtà col decreto poi crescita 2.0 sulla diffusione della banda larga dei 150 milioni che erano stati previsti dal governo Monti 20 sono stati nuovamente tolti e dati alle tv locali perché pare che comunque senza tv non si riesca a vivere in Italia e questa frase che ho scritto qui sotto internet e lo sviluppo economico e sociale che da esso dipende appaiono sempre in questo paese una priorità di nome ma non di fatto perché in realtà si trova sempre qualche scamotage per evitare di investire veramente in queste risorse il wifi libero ancora noi non sappiamo che cosa sia il wifi libero perché il decreto Pisani nel 2005 quattro anni dopo le torri gemelle fu firmato contro il terrorismo perché se si entrava col wifi libero si era terroristi non si veniva identificati il terrorismo non si combatte con un wifi libero o meno ok andiamo oltre vi dico appunto questo che in generale rispetto a tutti i paesi del G8 ma in realtà del mondo l'Italia è considerata proprio per questi motivi legislativi che vi dicevo talmente tanto indietro ad essere certificata a terzo mondo digitale ed è una cosa che è venuta fuori nel G8 del 2011 per cui fu commissionata una ricerca per capire perché l'Italia è un'anomalia e siamo appunto ultimi in qualsiasi classifica come quelle precedenti vai no no vai avanti vai avanti ok questa è l'indagine che è stata effettuata subito dopo appunto quella perché l'Italia è un'anomalia del G8 ed è una fotografia di come l'Italia non faccia parte non abbia fatto parte fino l'avete visto vi ho detto le date ancora nel 2011 si parlava di un piano digitale per l'Italia che non era mai stato realizzato e i decreti sono da partire dall'agosto del 2012 l'Italia insieme alla Libia e a pochi altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo non risultava avere a maggio 2011 alcuna strategia nazionale digitale in atto mancano l'Italia la Libia poco altro e praticamente forse la Groenlandia non saprei insomma vedete come tutti i paesi del mondo abbiano inclusa l'Africa abbiano strategie nazionali attive e non e nemmeno appunto in progress ok quindi questo spiega perché veniamo dichiarati peggio dello Zimbabwe dal punto di vista dell'interesse della politica alla presenza delle infrastrutture la priorità data alle tecnologie dell'informazione della comunicazione a livello governativo è inferiore rispetto allo Zimbabwe e questo dobbiamo ringraziare le famose 3i a partire dal 94 ok questo è per farvi dare un'idea insomma di come già siamo messi male in genere già siamo terzo mondo digitale e l'Italia meridionale è il terzo mondo del terzo mondo digitale ok e questo è una slide molto recente che è stata pubblicata da che wifi in realtà fa vedere quanti sono gli hotspot di wifi presenti in Italia mentre invece quei dati che vedete scritti in alto che sono vengono fuori da una ricerca commissionata dalla camera di commercio di Catania Demopolis sui siciliani praticamente noi abbiamo solo 2 milioni e mezzo di siciliani su 5 milioni 2 milioni e mezzo non l'ha mai utilizzata cioè il 52% dei siciliani non ha mai utilizzato al 2011 la rete e tendenzialmente vedete le cifre solo il 9% si connette occasionalmente il 25% abitualmente il 14% con 1 o 2 volte alla settimana un siciliano su 4 a fine del 2011 si collegava abitualmente e questo significa che in realtà non si è capito che cosa è internet internet è la chiave per entrare in questo nuovo mondo nell'economia nel lavoro anche nel mondo del lavoro e quello che crea ormai un'emerginazione sociale ed economica profonda quello che viene chiamato il digital divide cioè il divario digitale che è l'analfabetismo di oggi l'analfabetismo digitale ok qui se leggete appunto sempre sono frasi tratte sempre da quel libro di Manuel Castles del 2001 che già sapeva che cosa avrebbe significato effettivamente il digital divide sapeva che cosa avrebbe significato in genere per chi non era su internet ovviamente essere sconnessi o superficialmente connessi a internet equivale a essere marginalizzati nel sistema globale lo sviluppo senza internet sarebbe come l'industrializzazione senza elettricità nell'era industriale ok questa è una ricerca che ho fatto che ho fatto io l'anno scorso che ho pubblicato sulla visibilità sul web del patrimonio culturale siciliano per evidenziare le criticità enormi che abbiamo nel comunicare il nostro patrimonio siciliano sul web ok e in generale avevo anche evidenziato come fossero visibili i siti web dei musei rispetto ai musei cioè in una scheda su un portale culturale turistico quello che fosse se veniva indicato parco archeologico della valle dei templi descrivendo di che cosa si trattava contavo anche quante volte veniva citato il sito web cioè quante volte veniva rimandato al sito web istituzionale in realtà pochissime in realtà quasi tutti i siti web museali sono quasi non citati quasi sempre non citati sui portali ok questo è un'altra pubblicazione sempre su internet che spiega che cosa significa valorizzare la cultura attraverso le nuove tecnologie ed è necessario appunto recuperare questo ritardo per attivare quelle tre parole fondamentali per far crescere l'occupazione ricchezza e qualità della vita ok e appunto la nostra valorizzazione culturale deve essere ormai necessariamente una valorizzazione di tipo avanzato che sia in grado di potenziare il valore del capitale culturale della società della nostra società quella siciliana in genere comunque italiana consentendo il pieno sviluppo di questo di questo capitale culturale in un capitale culturale digitale perché è impensabile che i nostri bambini i nostri ragazzi a scuola eccetera non abbiano a che fare con le nuove tecnologie che non gli si metta nelle mani un computer ormai hanno sono abituati agli smartphone quasi tutti però altrove ci sono indici di penetrazione di internet quasi del 100% nei paesi del nord Europa con quelle percentuali che abbiamo il 50% noi siamo veramente terzo mondo questo è per farvi capire sono delle degli screenshot ricavati dal telefono dallo smartphone per farvi vedere quella che è una app realizzata dalla Puglia perché poi in fondo le cose stanno andando avanti c'è un tentativo di corsa per recuperare il terreno perduto la Puglia che è qua dietro ha realizzato questa applicazione che è in realtà aumentata non so se sapete di che cosa si tratta cioè è un'applicazione che consente inquadrando un soggetto un panorama di vedere elementi diciamo aggiuntivi sullo schermo vai oltre questo è un esempio non so quanti punti di interesse sono stati mappati in questa applicazione di Puglia Reality si parla di più di 10.000 punti di interesse andando in questo per esempio in questo piccolo porto più porto questa radura diciamo sull'acqua sapendo che è un punto di interesse si punta il telefonino e viene fuori quello che l'archeologia dice che era quel posto cioè un porto in età messapica da quelle informazioni aggiuntive che consentono di poter vivere un luogo diversamente non oso immaginare cosa si potrebbe fare in Sicilia con quello che abbiamo la Puglia ce l'ha fatta tranquillamente questa è un'app che si può scaricare gratuitamente vi dico soltanto che non esistono applicazioni culturali istituzionali realizzate dall'assessorato ai beni culturali l'assessorato al turismo aveva prodotto tre applicazioni sul circuito del mito contemporaneo che al momento credo che sia ancora sotto inchiesta tra l'altro è stato chiuso ma sono le uniche applicazioni culturali per smartphone realizzate dai nostri assessorati istituzionali manca completamente la capacità di capire che bisogna investire anche su questo ma non perché perché ormai è necessario perché se non ce l'hai non ce l'hai se non puoi comunicare in palmo di mano per esempio che vicino ad un museo c'è il bancomat fai qualcosa che ormai l'utente si aspetta che tu faccia se tu non lo fai non lo fai punto ma non è soltanto il bancomat è il negozio di souvenir può essere un museo meno evidente rispetto ad un altro che è semplicemente a 200 metri girando l'angolo ok vi dico che questo è non so se ne avete sentito parlare delle invasioni digitali qui ho un invasore a militello ed è stato un esperimento lanciato l'anno scorso ad aprile vai Mauro questo vi dico che avevamo cominciato a marzo io sono stata coinvolta sin dall'inizio nella realizzazione del manifesto delle invasioni e ho aderito volentieri all'inizio questa è una slide realizzata già quando le adesioni cominciavano ad esserci eravamo soltanto in 5 in tutta Italia vai oltre siamo diventati questi c'erano più di 300 invasioni digitali in che cosa sono consistite queste invasioni c'era la settimana della cultura l'anno scorso che è stata abolita dal MIBAC e qualcuno in questo caso un ragazzo di Salerno Fabrizio Todisco ebbe quest'idea coinvolse un'altra persona che si chiama Gianfranco Dallara che si occupa di marketing turistico del territorio e l'Associazione Nazionale dei Piccoli Musei e cominciò appunto a coinvolgere ognuno di noi piano piano altre persone siamo diventati appunto 300 abbiamo fatto 300 invasioni in tutta la penisola io sono stata la coordinatrice di quelle siciliane che erano in tutto 33 e sono consistite nell'andare nei musei nei parchi archeologici nelle città a fare trekking urbano armati di telefonini e fare foto del nostro patrimonio culturale mettendoli sui vari social network vai Mauro e questa è una frase bellissima su un blog quando la cosa ha cominciato a creare scalpore perché abbiamo fatto un rumore parecchio e appunto come leggete sembrava che l'Italia fosse affetta da un virus è stata un'esperienza particolare perché si sono messi di mezzo appunto i social network twitter facebook instagram e pinterest anche se facebook che soltanto da giugno usa il tag non ci ha consentito di conteggiare effettivamente il risultato della partecipazione a queste invasioni pur essendo il social più utilizzato andiamo oltre queste sono le invasioni realizzate in Sicilia sono 33 alcune erano a Palermo 4 a Catania a Cena erano 5 a Siracusa a Cena erano 3 sparse un pochino un pochino ovunque vai queste sono le locandine perché ognuna delle invasioni aveva la sua locandina con il marchio delle invasioni digitali il giorno all'interno di quella settimana della cultura di cui ci siamo riappropriati in qualche modo e si faceva girare appunto e si faceva si chiedeva alle persone di partecipare a queste invasioni andiamo questa è la lettera che è stata mandata dall'assessore Maria Rita Sgarlata a cui ho chiesto il patrocinio ed è stato dato il patrocinio alle invasioni digitali è stata l'unica regione a dare il patrocinio il Mibac si è svegliato dopo e ha cominciato a segnalare gli eventi delle invasioni quest'anno il Mibac affiancherà il gruppo degli invasori digitali che hanno presentato il loro progetto ad una grossissima conferenza internazionale che è stata a Marsiglia in questi giorni e che hanno dimostrato come i cittadini si possono riappropriare del proprio patrimonio anche attraverso le nuove tecnologie perché chi andava a fare il trekking urbano a Nicosia o chi a Militello faceva Santa Maria la Vetere ha dato la possibilità a quel pezzo di patrimonio culturale di essere visibile in maniera globale se non planetaria potenzialmente planetaria andiamo oltre questo per farvi capire come noi comunichiamo i beni culturali attraverso i siti istituzionali cioè attraverso queste foto tendenzialmente brutte dove il marchio regione siciliana beni culturali il famoso copyright è sparso ovunque rende quasi illegibili anche alcune alcune immagini e questo è un modo di comunicare ormai ampiamente passato se gli uffizi come vi dicevo che sono comunque un museo nazionale con lo stesso tipo di legislazione dei beni culturali perché la stessa che abbiamo in Sicilia la stessa hanno loro hanno deciso di investire diversamente non mi arricchisco se mi stampo o guardo meglio una foto non si arricchisce la regione più che altro se puoi stamparti una foto o non te la puoi stampare ti possono chiedere 10 euro 20 euro rispetto a quello che significa oggi stare su internet con una qualità dell'immagine diversa il riscontro è differente sicuramente non sono i 10 euro in più che ci sono in cassa ma è un modo diverso di comunicare il patrimonio andiamo oltre questo vi fa vedere in basso per chi conosce Catania e il teatro di Catania che cosa si vedeva tra Twitter Pinterest e Instagram in quella giornata sulla piattaforma delle invasioni digitali che raccoglieva tutte le immagini scattate in contemporanea dagli utenti in quel momento si stavano vedendo le foto che passavano del teatro greco-romano di Catania che pur essendo appunto un parco archeologico regionale insieme a pochi altri grazie appunto anche all'intervento dell'assessorato hanno potuto aderire solo per quel giorno però hanno potuto aderire a questa manifestazione e dall'anno prossimo col 2014 invasioni digitali avrà il pieno supporto e il pieno patrocino dell'assessorato e sarà utilizzato come quello che è una piattaforma per dare visibilità al nostro patrimonio ok? questi sono i numeri delle invasioni digitali e sono impressionanti per quello che riguarda vi dicevo che in realtà Facebook non è stato quantificabile i dati su Facebook perché il tag cioè il cancelletto è spuntato su Facebook soltanto a giugno del 2013 il cancelletto permette appunto di quantificare la presenza di un nome nel caso di invasioni digitali con costo zero perché non ha avuto nessun costo questa operazione ovviamente per nessuno se non tanto impegno e tanta passione da parte di tanta gente ci sono stati più di quasi 10.000 persone che hanno partecipato noi abbiamo fatto in tutto abbiamo avuto 17 milioni e mezzo di impressioni che sono state 17 milioni e mezzo di impressioni che si sono ricavate dai tweet di Facebook delle persone che hanno messo le loro foto i loro commenti su Facebook e così via andiamo questi sono i dati che riguardano la Sicilia in base sono stati chiesti dei report alla fine non tutti quelli che hanno fatto le invasioni erano 33 in Sicilia hanno appunto iscritto in tempo il report finale cioè quanti erano gli invasori eccetera per la Sicilia sono arrivati 25 report su sono state fotografate quasi 11.000 opere noi abbiamo avuto 2.000 persone che hanno partecipato alle invasioni digitali che si sono mosse per i musei i parchi eccetera anche in questo caso il primato in assoluto va a Militello e 2.800 opere fotografate cioè praticamente un quarto di tutte le opere fotografate in queste invasioni digitali sono state fotografate in Sicilia e 2.000 e un partecipante sono un quarto altrettanto praticamente di quello che si è fatto in tutta Italia ok vabbè questi erano dei conti che avevo fatto io su Pinterest che è un'altra piattaforma questa che vedete poi vai Mauro poi c'erano ancora altre foto su Instagram con 2.172 apprezzamenti da quest'anno Sicilia Invasa è stato il tag che abbiamo scelto per le invasioni digitali in Sicilia da quest'anno con il tag su Facebook e con la visibilità che sicuramente avremo grazie anche al Mibac e alle istituzioni io penso che sarà una gran bella esperienza probabilmente saranno invitati tutti volete invadere il vostro museo civico fatelo perché gli date visibilità così come il Castello Santa Pau così qualsiasi cosa vogliate fare spero che grazie a Facebook tutte queste iniziative verranno fuori siete autorizzati ad andare nelle soprintendenze ad andare dai direttori dei musei a dire in tal giorno probabilmente sarà sempre nell'arco della settimana della cultura 2014 voglio organizzare un'invasione siete autorizzati io sarò di nuovo la responsabile delle invasioni ero impazzita già l'anno scorso probabilmente sarà peggio quest'anno però è stata un'esperienza unica non è mai esistita una cosa del genere altrove nel mondo vi dico perché è la partecipazione dal basso di noi cittadini che attraverso le nuove tecnologie quando andiamo fuori all'estero e fotografiamo il patrimonio culturale che hanno esposto nei musei e da noi non lo possiamo fare è un modo di riappropriarsi del nostro patrimonio di poter dire io ho questo a casa mia non necessariamente quando mi trovo fuori devo fotografare per forza il frontone del partenone magari ho un bellissimo portale a Santa Maria la vetera Militello e questo è tutto io colgo la palla al balzo e raccomando agli abitanti di Licodia che sono qua di approfittare quanto prima di questa occasione perché avete visto che le invasioni digitali ma anche questa rassegna stessa tutte quelle manifestazioni molte delle quali anche l'archeoclub cerca di promuovere possono essere un volano d'attrazione del pubblico a determinati beni beni di cui noi siamo proprietari di cui a volte non siamo nemmeno consapevoli perché ce li abbiamo sotto gli occhi sempre ma che possono avvicinare sempre più gente al nostro patrimonio culturale alla nostra storia stessa è importante saperlo è importantissimo anche raccontare esperimenti del genere perché fanno vedere come realtà virtuose come quelle delle invasioni digitali sono veramente a portata di click le può fare chiunque e chiunque può contribuire in maniera decisiva anche al successo quindi come dici tu è una rivoluzione che parte dal basso assolutamente sì ben vengano queste iniziative penso che si verrà a sapere quando organizzeremo la prossima noi ci terremo comunque sempre informati Elisa ti ringrazio tanto per la partecipazione grazie a voi e di adesso vorrei vorrei lasciarvi una decina di minuti per riposarvi e attendere il film che verrà proiettato alle otto circa che è un computer di duemila anni fa un film importantissimo che ha vinto molti premi all'interno di festival e rassegne di settore non soltanto in Italia ma anche in Grecia negli USA in Francia e quindi vi invito a prepararvi per godere appieno dello spettacolo in questo quarto d'ora avete la possibilità anche di compilare anche meno Alessandra facciamo dieci minuti di pari d'accordo e allora in questi dieci minuti io vi invito a riposarvi un po' oppure a compilare il questionario che trovate al desk relativo al gradimento della manifestazione vi ricordo che è molto importante perché ci aiuta a capire quanto possiamo crescere e cosa possiamo migliorare nella realizzazione di questo evento grazie allora riprendiamo con l'ultimo film di questa sera vi annuncio che è uno dei film lo dico personalmente uno dei film più belli che quest'anno proponiamo al pubblico e d'altronde questa non è un festival per cui si può dire la propria opinione senza diciamo entrare in meccanismi particolari il computer di duemila anni fa è un film americano un film scusate inglese il regista è americano Michael Beckham il film è del 2012 un'investigazione storica e scientifica che racconta come gli antichi greci costruirono un computer duemila anni fa il film spiega come gli antichi avessero tanto le competenze che l'inventiva per realizzare una macchina del genere chi fu il genio inventore e a cosa serviva veramente i dati scientifici più recenti e l'uso di una grafica eccezionale rivelano una serie di cifre misteriose che fanno risolvere l'enigma dei meccanismi un vero codice da Vinci ambientato nell'antica Grecia buona visione È stato creato 2,000 anni fa, in Anciente Grecia. Alcune, qualcuno in Anciente Grecia, ha creato una macchina che era un computer mecanico. A 100 anni fa, un gruppo di divers chancedo a un'errore, pieno di un'errore di un'errore di Anciente Grecia che aveva trovato. È stato creato l'arri despenza di Anciente Grecia. Anche di Anciente Grecia è un'errore di un'errore, meno più grande di un'errore di un canale. It's known as the Antikythera Mechanism. As a team of scientists try to unravel the secrets of the Antikythera Mechanism, we are taken on a journey that charts the fall of one great ancient empire and the rise of another. An ancient Greek scientist had done a truly remarkable thing. He'd found a way of using bronze gear wheels to track the complex movements of the moon and probably all the planets as well. It was a mechanism of truly staggering genius. This is the story of the world's first computer. This is the story of the Antikythera Mechanism.